Buon lavoro a tutti, buon lavoro da Torino, alle mie spalle la riproduzione di una 500. Buon lavoro, la prima parola della settimana è settimana corta, non è un gioco di parole. Un direttore char su due è pronto a sperimentare la settimana corta. Leggiamo insieme le motivazioni. Per il 79% migliora la conciliazione vita-lavoro, per il 46% perché fa bene al corpo e alla mente e per il 27% perché motiva i collaboratori. Lo dice un'indagine di AIDP, l'Associazione Italiana per la Direzione del Personale. Dunque, tiriamo le somme. Gli HR, la metà degli HR, è favorevole alla settimana corta. Bene, vediamo se lo è il resto del management delle nostre aziende italiane. La seconda parola chiave della settimana è premio. Pensate un po', 1500 euro di premio ai dipendenti per i 60 anni dell'acqua lauretana. Leggiamo insieme le motivazioni di questo premio. Di chi? Del presidente Giovanni Vietti. Ha detto, ci impegniamo a creare un ambiente lavorativo positivo e gratificante. Questo premio è un modo tangibile, concreto, per riconoscere il contributo fondamentale di ogni persona al successo dell'azienda. Buon premio a tutti, appunto, i dipendenti dell'acqua lauretana. La terza e ultima parola chiave della settimana è cura delle persone. Dobbiamo curarci delle persone, dobbiamo esercitare la nostra libertà in relazione al rispetto degli altri e non come arbitrio. Chi lo dice? Lo dice Guido Stratta, ex HR di Enel e fondatore dell'Accademia della Gentilezza. Sempre Stratta dice, per ottenere risultati in azienda, che cosa bisogna fare? Occorre curare il benessere delle persone, dei dipendenti. Come non essere d'accordo? Umanità, appunto, cartina di tornasole della vera leadership in azienda. Buon lavoro a tutti.